custodia porta maschera antigas germania ovest ex dotazione anni 80 90 interamente in tela gommata impermeabile ha un'apertura di tipo rapido con due bottoni automatici questa stecca è rigida semirigida serve per aprirla all'istante a un passante da cinturone apribile con un bottone automatico e da quattro attacchi per tracolla 1 2 3 e 4 e 5 compreso quello del passante la tracolla è regolabile all'interno abbiamo messo l'imballaggio ma è fornito con leifro con tasca grande tasca laterale poi ha un piccolo taschino a sinistra e un taschino sul fondo capiente impegnabile in ottimo stato ganci tutti metallici grazie Grazie a tutti.